Sono alcuni quartieri di Napoli che mancavano e quindi è uno strumento molto importante, ci siamo fatti trovare pronti perché aggiungiamo quartieri impegnativi della nostra città che erano attualmente privi di videosorveglianza, quindi ormai ci avviamo progressivamente verso una copertura quasi totale della città sotto il profilo della videosorveglianza, questo significa sicurezza, prevenzione e tanto altro che ormai sappiamo, anche strumento di individuazione di responsabili di reati come è accaduto in questo periodo che diversi fatti sono stati ricostruiti grazie alle videocamere.